Il nostro departmento è caratterizzato da una multidisciplinarietà questo ci permette di fare una ricerca tradizionale nel campo dell'oncologia endocrini e metabolici e neuroscienze e ricevere fondamentali da maggiori enti nazionali e internazionali sia da Europa e degli Stati Uniti Il progetto del Centro 3 del Centro 3 coinvolge il nostro departmento in una task focalizzata sulla isolazione e caratterizzazione del RNA non-coding cargolato da un vesicolo dell'extracellulario per la scuola di terapeuta. Intentiamo identificare un vesicolo dell'alteriore dell'esicolo dell'extracellulario nel settore clinico della fibrosi e utilizzarli come biomarker o per potenzialmente investigare il loro ruolo come molecoli drogibili Il nostro obiettivo è testare un prototipo di RNA per progettare i studi di preclinicali per la produzione e in vitro validazione di vesicolo dell'extracellulario crna per la fibroblastia dell'alteriore Il nostro departmento del CN3 è dedicato a identificare biomarker per l'alteriore dell'alteriore per l'alteriore dell'alteriore per l'alteriore dell'alteriore senza effetti off-target con risultati promessi Abbiamo anche sviluppato una vaccinazione cellulare terapie per avanzare maligno Il TAC Tuscany Health Ecosystem è intenzionato per aiutare il sviluppo delle scienze di vita in Tuscany Inoltre ci sono 10 spocche con spocche 6 concentrano la medicina precisione Inoltre ci sono tre mesi Tuscany University e altre compagnie Il spocche 6 è diventato in tre subprogetti Il primo è il discorso di biomarker in trattamento, prevenzione e diagnosi Il secondo è concentrato sull'alteriore e il sviluppo di trattamento in oncologia Il terzo è concentrato sullo sviluppo di nuovi strumenti in artificial intelligence in il campo di precision medicine Il nostro department avviene eccellente risultati nel sorgico in cui serve come un centro per la trattamento per la trattamento per la trattamento e per la trattamento 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 e la trattamento e la trattamento Il risultato e la trattamento sono supportato dal uso di dispositivi avanzati per esempio il robot da Vinci che permette l'execuzione di procedure complesse maggiore abdominali e lede a una buona recuperazione dei pazienti La promozione e il sviluppo di tecniche tailored per ogni paziente è cruciale soprattutto nel contesto di precision surgery La promozione necessita studi e pratica clinica per questo motivo la simulazione è la parte principale della trattamento i labi simulazioni sono disponibili e i doktori possono praticare i modelli prima di fare la trattamento complessa nella sala di operazione o aiutare i pazienti e i da doktori e i da e di ti Grazie a tutti.